Aereo unità di in avvicinamento, giù! Ehi, soldato del cartello! Dove c'è quel camion? Un altro bersaglio. Nemico a terra. Sta indietro, ti obblicheranno a farlo. Il drone è partito. Un terzo. 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 ci sono un paio di narcos ditemi dove guardare di fianco al camion abbiamo le foto che ci servono andiamocene c'è un sicario armato di mitra, proprio dove c'è la pila di pneumatici tutto a posto, nessun allarme passo i dati a Bowman, dovrebbero fornirci maggiori informazioni sulla rete di distribuzione di Kohani